Giorno a tutti, oggi sono attrezzato, vengo vicino alla telecamera perché voglio riuscire a farvi vedere questo, tanti di voi l'hanno già scoperto, questo è un seminatore che ho costruito io, vi spiego come funziona, semplicissimo, è sulla terra un po' bagnata, magari si incolla un pochino, allora, a differenza di quelli che lo devono aprire, vengo vicino nella speranza che si veda bene, eccolo qua, vedete com'è, costruito con un tubo di plastica, la roba elettrica, e questa qua è lo sportello, quando tocca al suolo lui si apre, lascia lo spazio, poi noi facciamo cadere dentro il semino, però nel risuolevarlo, quindi nello sfilarlo da terra, bisogna tenere tirato qua, quindi deve uscire aperto, poi lo lasciate andare dopo, poi potete guardare un altro allato ogni tanto, quindi il più contrapeso qui serve per farlo richiudere, però se io lo sfilavo senza tenerlo aperto, lui si richiudeva subito, e a volte pizzicava ancora il fagiolo, il mais, quello che era, me lo ritirava fuori, quindi entriamo così, toccherà a terra e si apre, una volta che tocca a terra questa misura è già quanto innesta nel terreno, quindi due dita per intenderci, dopodiché quando io lo tengo, tac, si richiude, quindi adesso senza perderci ancora i chiacchiere, partiamo con la semina di questi fagioli, sono dei fagioli nani, fagiolini quindi cornetti nani, che voglio fare in due file in questa proda piccolina. Mettiamo piuttosto vicini, metto due, tre per ogni buca perché non è scontato che nascano tutti, poi se nascono ricordatevi che io sono dell'idea che non si litigano il terreno, di terra ce n'è per tutti. Ogni stanza scrollo così, solo perché voglio essere sicuro che ci sia, di solito quando sollevate si richiude già da solo il buchetto, se vi resta il segno sapete più o meno dove siete arrivati, se lo perdete di vista, va bene, pazienza, sormontate. Questi se sono vicini vengono meglio perché quando crescono, sono in quelli bosconi, praticamente quando ha molta crescita si appoggiano una pianta all'altra e si reggono da sole, se non anni ma se sono uno accanto all'altro si reggono da sole, stando insieme. Siamo ancora a marzo, prima settimana di marzo, ho anticipato questa semina perché voglio avere i fagiolini presto, ci vuole un bel tempo anche perché si sviluppino, perché comunque il terreno è appena umido, ha piovuto pochino questa notte, però non vedo un problema nell'anticipare questa semina, poi se sbaglio, la ripeto, comunque, la rete è arrivata, la devo mettere intorno perché anche Tabi ci passeggia come se niente fosse, lei ha bisogno di tagliare su di qui per correre a fare le sue corribande per il giardino perché sente la volpe, abbiamo una volpe che passa qua di notte e chiede che sta cercando di capire se ha metto le galline, al momento la volpetta non è soddisfatto dal fatto che io non metterò le galline, per cui crede che poi torna, magari più avanti tornerà a controllare, non si intada neanche, quindi come avete visto quando io lo metto dentro, lui si apre, spingo e lui si apre il becchetto, fa così, fa lo spazio per lasciare cadere i semi e io quando vado a toglierlo, il semi è rimasto giù, e invece tutte le prove che avevo fatto, c'era un video vecchio sul mio canale se c'è ancora se non mi ricordo male se non l'ho rimasto, boh, c'era una situazione dove effettivamente abbiamo fatto delle prove e se non tiravi il grillettino qui riprendevo il seme addirittura, senza che roba questo ho clonato uno di quelli che si vede in giro, con la differenza che l'ho semplificato io, non ci sono molle, non c'è, non ci sono cose strane che si bloccano, adesso c'era dentro purtroppo che è andata a cadere nell'imbuto, lì lì fuori, una lucetta, la percivo di morirci dentro, l'ho scopata fuori, la prossima volta vedrai che sta più attenta purtroppo, quella no, non lo metto più io lì, buono abbiamo fatto comunque due filette, adesso io vado a rimettere via queste cose, speriamo che vengano fuori alla svetta perché i fagiolini a me come anche a qualcun altro piacciono molto, a me per esempio piacciono con le patate e il pesto e ci faccio la pasta, fornette, patate e il pesto, e è una meraviglia questi sono tutti i sassi, questi qui sono i pezzettini di trinciato che c'è nel, che ci è stato fatto nel, nel lavoro della trincia con il cipatore, quindi adesso l'aggiunta di questo, di questa parte legnosa, carboniosa, aumenta la parte carboniosa nel terreno sicuramente e in più ci trattene l'umidità perché comunque anche qui questo è cipato, quindi questo vedete che sotto è umido, perché ha fatto quattro voce, quindi in superficie può asciugare, sotto lo frattiene l'umido che poi lo riceve comunque al terreno, in questo senso queste hanno un buon drenaggio perché quelle sono cipolle che stanno già spuntando tutte, l'aglio, l'aglio è già avanti, cipolle, questi fagiolini di cipolle, cosa succede? Queste qui che non vogliono molta acqua, le ho fatte in questo senso così avrà più drenaggio se c'è il dilavamento della collina, quelle di là poi le vedete nelle prossime puntate quando andiamo a fare altri lavori, sono girati invece nell'altro senso perché quando c'è la pioggia la fermano invece là, quella trattengono un po' di più. Adesso io mi sposto, questo lo lasciamo così, mi sposto e andiamo qui accanto, prendo prima dei legnetti per fare delimitare delle aree e e andiamo a fare un altro lavoro su questa prova qui accanto, un'altra semina. Allora, eccomi, ho delle buste nuove che ho acquistato comunque, perché ho dovuto fare un repulisti anche in tutti, in tutte le varie cose. qua mettiamo delle carote. eccomi, 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 eccomi. eccomi, 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 eccomi. eccomi, 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 eccomi. Sono lunghissime le carote e le nazioni, eccomi. Sono lunghissime le carote! è una carota commerciale normalissima, ho dei semi particolari e adesso poi vedrò se testarli in qualche altro pezzo, tanto c'ho ancora i cassoncini da fare sopra, faccio una semina sbaglio, poi si vedrà se nascono in tante andrò a fare un diradamento, comunque voi sapete che io lascio anche lì, poi si ingrossano, mangiano, non faccio la semina con una singola carota, una crescerà un po' di più, una crescerà un po' di meno, ma non ci vedo proprio nessun problema, diciamo che se non li facciamo cadere a mucchi è meglio, no? Sono lunghissime veramente, in teoria dovevo farle addirittura a febbraio, però poi ho detto vabbè dovevo preparare, non era pronto, ancora adesso non mi fidavo a farlo perché avrei fatto volentieri settimana prossima quando chiudevo, perché purtroppo i cani ci passano via e adesso ho anche il gatto, vabbè infatti che il gatto con la rete lui passa dentro lo stesso, non è un problema, però ecco volevo evitare di avere questo problema del calpestamento diciamo delle parti lavorate, mi infastidisce un po' questa cosa però la togliono perché comunque so che esistono anche loro, sono qui con me, sono i miei due patatoni, è qua che facciamo un'altra, facciamo dieci file, ma no lo facciamo anche tutto a carocci vai tanto per le minerce in inverno la carota è chiusa ragazzi, cioè, veramente, speriamo che non ci sia una molta molta ripresa sotto delle parti originali, dell'erba originale che c'era, ma era già una parte comunque semilavorata, per cui non dovrebbe comunque darmi noia, assolutamente, però controlleremo la situazione, fino a qua siamo arrivati. adesso, questa è quella parte, diciamo, relativa alle semi, non vengono incassate molto, però adesso si sentirà il calore, poi non so se nei prossimi giorni piove bene, se no gli darò una bagnata, io eravamo arrivati a questo, adesso questa è quella parte, diciamo, relativa alle semine, perché le piante nel semenzale ne sto facendo poche, ho le insalate che hanno preso bene, poi dovrò ripicchettarle, adesso devo iniziare a testare subito al volo i semi delle zucchine, per vedere poi dove destinarle, sperando che funzioni ancora bene, se no comprerò qualcosa, però ecco, effettivamente, ho messo mano alle mie scorte dei semi, vi devo dire che ho decimato tutto, ho buttato via un sacco di roba, a mal in cuore, perché era tutta roba ancora da testare, da provare, però alcuni test li avevo già fatti, non erano comunque riusciti bene, per finiti a ostinarsi, a volte bisogna fare repulisti negli armadi e lasciare la roba nuova che vada avanti, poi piano piano, negli anni qui in case, qui in cascina si, mi riprocurerò la mia semenza e diciamo che poi, questi allora non servono perché li avevo messo perché nel caso che dovevo dividere la cosa, è una carota tucondi, non so neanche come si dice, va bene, comunque è una carota commerciale, arancio, classica, andiamo a fargli sentire il peso della terra, questi semi, il terreno sotto è già umido, ve l'ho già detto un po' il clima di lapisi fagioli perché ha comunque finito un pochino, la notte passata deve aver fatto proprio quattro voce di numero, spero, vediamo come si presenta la situazione, adesso per chiudere il video, sposto ancora la cosa, facciamo un quadretto con un'altra semina e poi ci salutiamo, abbiamo il basilico, il nostro prezzemolo, controllo l'inquadratura, facciamo un bel quadretto di prezzemolo e poi chiudiamo il video, allora cosa vi ho detto, qui facciamo un'altra cosa, questo lo devo togliere perché purtroppo ogni tanto assicura qualche cadale da sotto qui, anche il prezzemolo è lunghissimo a nascere, tra cui anticipiamo tutte queste cose e poi le dimentichiamoli e vi dico che veramente vanno dimenticate, questo lo vi dirò, tendenzialmente il il prezzemolo l'ho sempre fatto a sbaglio, a sbaglio lo facciamo da un'altra parte, lo facciamo le cassone di là, davanti a casa, qui lo faccio in file perché è più bello e più facile quando andate a tagliarlo, è veramente molto più bello, poi diciamo che un'altra delle cose che vi facilita sapere o meno se sta germinando bene la roba quando ho fatto la semina a file, perché andate vedere proprio delle vere e proprie file, quindi difficilmente un'erba spontanea, indesiderata, che diventa male erba, quindi non so se non so poi quella parola lì però vi cresce in linea così come avete fatto con la vostra semina, per cui in una semina a sbaglio un'erba che cresce e poi spontanea, io sono già a Sicile Zanzara, voi avete visto, e ci sono quei moschini che mordono anche, vabbè questo è un prezzemolo gigante d'Italia, e devo dire che anche questo l'ho preso, se l'avevo comunque, l'ho testato, l'ho andato, ho portato bene anche quello che avevo, però quest'anno ho voluto rinnovare un po' anche, sono andato a prendere delle cose, ho comprato il servizio quello specifico per le semine, per le rinvasi, che poi vedete nei video delle semine e quindi in quell'occasione veramente odio che ho avuto e prendo anche qualche bustino di semi adesso l'unica speranza è che faccia un po' d'acqua, che inizia a piovere benino, insomma, che venga una bella piozzarella, che bagna senza fare le bombe d'acqua, auguriamoci, spingiamo questo pensiero questo pensiero positivo, magari in maniera un po' collettiva a tutti quanti, mettiamoci un po' di impegno e cominciamo a pensare che, anziché continuiamo a lamentarci, ne, 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 no, va bene, spingiamo il pensiero positivo, generale, per tutti, no? concentriamo i nostri sforzi in questa cosa un angolino di prezzemolina l'abbiamo fatto un angolino di prezzemolina adesso non so se un angolino di prezzemolina si tolglie se dov'è una sventagliata d'acqua giusto per far spogliare meglio ancora non ho portato il sistema di irrigazione per bagnare qua probabilmente da qualche parte vedrò magari di integrare la seconda cisterna da 1000 litri a servizio di questo orto quindi potrò comunque usare anche la mia pompa la mia pompa volante quella che comunque uso una è fissa su nella casetta dell'acqua quella l'altra c'è che poi avete già visto credo il video della della casetta dell'acqua ecco quella è così quello non c'entra no quello l'abbiamo fatto no l'ho messo l'ho appoggiato io ma ho canaccia non devo lasciarlo lì questo è prezzemolo quelle erano tutte perote e di là abbiamo fatto i fagioli fagiolini cornetti nani molto filtri come vi ho detto così quando crescono si appoggiano una pianta all'altra non coricano quando sono carichi di frutto e poi piano piano sono quelli verdi se facevano il cornetto con lo viola lo preferisci perché lo vedi meglio quando vai raccoglioli però ecco adesso nei prossimi giorni una settimana entranti riesco a verpi la rete quindi comunque confino perché così i cani non ci traversano più nel frattempo spero di non trovare delle impronte e riandare insomma ecco detto questo io ritiro le cose vado in casa a fare altre cose mi preparo visto bagnando dei vasetti per fare delle semine sto preparando un po di attività alternative a questa basta vi auguro buona giornata se avete seguito il video semplicissimo fanno tutto fa perché in questo momento vedete che il malo dell'orto di malo ce la mette tutto anche per procurarsi del cibo insomma alla fine non è solo la ristrutturazione della cascina di questo di quello qui si fa tutto perché questa è una vita a 360 gradi che io mi sono scelto e che a volte mi mette anche un po di discussione perché non ho mai nascosto a persone a me più care che ogni tanto vado un po in crazy perché insomma alla fine tante volte mi guardo dentro e dico mamma devo fare tutto questo non ce la farò mai non ce la farò mai in realtà questo non ce la farò mai e poi la spinta che ti dice no dai che ce la puoi fare quindi io vi auguro buona giornata vi ringrazio poi poi ci fate sempre quello che volete la vita in cascina continua ciao a tutti